Un cordiale saluto, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, siamo in diretta Come tutte le mattine alle sette e mezzo per i giornali, il Carrino e il Corriere tra poco li vedremo con i titoli, le notizie più importanti, il Carrino le trovate come di consueto nella vostra edicola di fiducia, noi vi diamo soltanto un'anticipazione con i titoli E adesso però vediamo il calendario di oggi, la Santa di oggi è Sant'Elena, Sant'Elena è imperatrice, auguri naturalmente a tutte le persone che portano anche questo nome Festeggiamo anche l'onomastico, e una Santa che visse nel 330, quindi siamo molto in là negli anni Il sole è sorto alle 6.15, tramonterà 8 minuti dopo le 20 Vediamo il tempo, perché attenzione c'è un cambiamento oggi, io queste previsioni qua non ci capisco più niente, nel senso che cambiano di ora in ora Non vale più nemmeno la previsione a tre giorni, perché qua arrivano tutti questi siti che parlano di piogge improvvise che poi non ci sono, insomma mettono un po' in confusione Noi siamo sul sito della protezione civile delle Marche, intanto, e queste sono le previsioni per oggi Giovedì 18 agosto, possibili brevi rovesci pomeridiani, in particolare sulle zone interne settentrionali, ma stando ad alcuni siti, per esempio queste precipitazioni potranno scivolare fin verso la costa Quindi non è escluso che nel pomeriggio ci sia qualche possibilità di breve temporale pioggia anche dalle nostre sulla costa, insomma, Pesarese e Anconetana Le temperature, minima 16-18, la massima 26-27 gradi per la giornata di oggi Domani, venerdì, lo stesso, tempo brutto, vedete, cielo è regolarmente nuvoloso, ci sono queste nuvole che continueranno a rovesciare acqua, temporali sparsi durante la mattinata I fenomeni si esaureranno nel corso del pomeriggio, le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, mentre nei valori minimi saranno stazionarie Per la giornata di sabato il tempo invece migliora, vedete, cielo sereno su tutta la costa, anche nell'entroterra, le temperature sono in aumento Tempo stabile soleggiato anche per la giornata di domenica, poi ancora deboli fenomeni di instabilità per l'inizio della prossima settimana, seguiti da un miglioramento Allora, adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dalla pagina del resto del Carlino La notizia in evidenza è quella dell'organico della polizia autostradale, il distaccamento della polizia autostradale Perché il 50%, scrive il giornale stamattina, su un totale di 40 agenti di polizia, il 50%, la metà del personale dell'autostradale Del distaccamento di Fano usufruisce della legge 104 Il risultato che produce qual è? È che le pattuglie non escono anche in un periodo da bollino nero come questo Perché manca il personale, la legge 104 è quella che consente di assistere un familiare che ha bisogno di cure Questa è la notizia principale, la troverete sulle pagine interne del resto del Carlino Poi, fumo da vietare in spiaggia, molti tra i bagnanti approvano questa legge, questa ordinanza del sindaco di Pesaro Ricci La proposta del Codacons trova consensi e l'assessore Briglia dice possibile Chiaramente noi parliamo dell'ordinanza del sindaco di Pesaro, si riferisce alle cicche di sigarette che non si possono buttare La proposta del Codacons invece va oltre e addirittura vuole vietare il fumo in un luogo aperto, in un luogo pubblico come appunto la spiaggia Una palestra nuova invece per ricordare il figlio è questo gesso straordinario della mamma di Simone a Barchi Morto in un incidente a 22 anni che ha donato un impianto, lo vedremo tra poco Lo vediamo subito allora, restiamo sulla pagina del resto del Carlino Dicevamo di questa palestra nel ricordo di Mone, così veniva soprannominato Simone appunto Maurenzi Morto, lo vedete nel tondo in questa fotografia, morto all'età di soli 22 anni il 4 aprile del 2005 Fu vittima di un incidente mortale sulla Flaminia all'altezza di Cagli E la mamma adesso per ricordare questo figlio ha deciso di dedicargli una palestra, di costruire una palestra I lavori inizieranno a breve, l'importo è di 535 mila euro Benvenuto nella terra dei fuochi, il benvenuto è dei fanesi a Don Luigi Ciotti Il fondatore di Libera è atteso oggi, questa sera, al paese dei Balocchi Questa iniziativa molto bella che si tiene in questa frazione di Fano Ed è un'iniziativa che ormai è giunta alla sua tredicesima edizione, se non ricordo male Sì, tredicesima edizione e insomma sta andando sempre meglio E quindi i residenti di Bellocchi scrivono a Don Luigi Ciotti sul caso della Profiglas Anche il benvenuto nella terra dei fuochi è un po' forte a dire il vero Mi sembra un po' esagerato, però vabbè, ognuno è libero di dire la sua Io non difendo nessuno, assolutamente Difendo sia quelli che abitano a Bellocchi, sia quelli che lavorano a Bellocchi Anche quelli sul suolo, qui si parla dei dati Quelli sul suolo, dopo l'incendio che è avvenuto in questa grande azienda Che ha sede appunto a Bellocchi I controlli, i dati sul suolo dell'aria e dell'acqua sono tutti ok Manca però, mancano i dati sulla diossina La città dei bambini, dicevamo, il fondatore dell'associazione Libera Vestirà la fascia da sindaco del paese di Bellocchi Questa sera alle ore 21, tutto pronto per accogliere il paladino della legalità Tutto bene invece allo stadio Mancini L'Aello Mancini dove si disputerà il campionato, le partite casalinghe Si disputeranno le partite casalinghe del Fano Calcio L'Alma Juventus Fano che è stata riammessa nel campionato di Lega Pro Quindi tra i professionisti Promosso, dicevamo, anche lo stadio Perché ieri c'è stato un sopralluogo della commissione di sicurezza Dopo i lavori di adeguamento Ci sono dei lavori di adeguamento da fare Chiaramente vogliono, la Lega Pro vuole determinati Che siano, ci siano determinati parametri Accessi separati, l'impianto di videosorveglianza Per esempio i posti numerati Un'illuminazione efficiente Insomma per 100.000 euro il comune ha messo a posto tutta questa roba qua E chiaramente adesso tutto è pronto per far giocare questa squadra La pagina di Fano invece ospita un'intervista al vescovo della diocesi di Fano Trasarti Il vescovo dice La nostra diocesi non si tocca Smentite le voci di accorpamento Poi insieme al giornalista del Carlino Fa il focus sui temi del momento Vale a dire l'ospedale unico, le banche, il lavoro E si parla anche di emergenza povertà Ma per quanto riguarda gli accorpamenti Delle parrocchie per mancanza dei sacerdoti Il vescovo dice Direi che noi non siamo messi male E questo tema riguarda casomai più Pesaro La città è tutta coperta Dice lui per ogni parrocchia c'è il suo sacerdote Qualche problema c'è nelle zone interne Per esempio nell'area di Cagli Per quanto riguarda il Corriere Adriatico Le numerosissime pagine del Corriere Adriatico Lo ricordiamo per i più distratti Insomma il messaggero si è fuso con Essendo lo stesso editore con il Corriere Adriatico Ed è uscito questo giornale Molto bello, molto ben fatto Con tante notizie Se non lo avete ancora mai acquistato L'invito è di acquistarlo Di fare una prova, di vedere Perché è cambiato tutto Ed è un bel giornale Marche Nord perde i big E parliamo quindi di sanità Zingaretti verso l'addio Lascia il primario di chirurgia Negli ultimi tempi Tante sono state le defezioni Mentre si parla anche del Burkini Anche nella nostra regione E nella provincia di Ancona In particolare a Senigallia Perché vedete qui c'è questa donna Di professione falambulante Che ieri era in spiaggia Regolarmente E faceva il bagno con il Burkini Senigallia sta con lei Anche Sgarbi la difende E dice in maniera provocatoria Chiaramente Essendo comunque personaggio intelligente Poi i titoli si fanno sempre per Per scuotere un po' Per accattivare l'attenzione del lettore Ce l'hanno pure le suore Dice Sgarbi Poi nel discorso chiaramente È un po' più articolato Si parla di libertà religiosa A Pesaro sono tutti contenti I numeri danno ragione Al turismo Alle tante persone Che stanno affollando il litorale A nord della regione Marche Frecce e candele Frecce e tricolori E candele L'ultimo appuntamento Che c'è stato sulla spiaggia pesarese Che affare Basso investimento Enorme è stato il risultato Entusiasmo in comune Per il successo di questi due eventi estivi Delle noci L'assessore dice Abbiamo speso 35 mila euro Ottenuto 200 mila presenze E nel 2017 avremo anche il carnevale Attenzione Dico attenzione Fano è avvertita Zingaretti Fano è il carnevale più antico d'Italia Lo dico per i turisti che stanno qua Magari che non sanno bene esattamente Cosa c'è e cosa non c'è Fano è il carnevale Ha il carnevale più antico d'Italia Pesaro Incombe Zingaretti Verso l'addio Parliamo di sanità Verso l'addio a Marche Nord Il direttore del dipartimento chirurgico Pronto a lasciare l'azienda ospedaliera C'è una data C'è già una data Negli ultimi tempi ci sono state tante defezioni Chi perché in pensione Chi perché ha tirato da nuove opportunità Mentre si discute di siti Di nuovo ospedale Si stanno perdendo Purtroppo diversi professionisti Tutti in Burkini La sfida di Senigallia Sulla pagina in primo piano delle Marche In Francia i costumi per le musulmane Sono al bando Sulla piaggia di Velluto C'è invece chi lo indossa Rachida El Alam Ambulante in centro storico Dice non farei mai il bagno Senza questo costume E qui mi rispettano tutti Con la mia famiglia vado in spiaggia Quando c'è meno affollamento Per evitare disagi Evidentemente anche qualche commento E Sgarbi come dicevo Togliamo il velo pure alle suore Questo è il commento sarcastico Ma anche provocatorio di Vittorio Sgarbi Tagliente come sempre Sui divieti francesi Difende la libertà di religione Capisco l'emergenza Dice lui di sicurezza Ma non si possono privare le persone Dei propri diritti Se incontrassi una donna in Burkini Dice ancora Sgarbi Non starei lì a pensare Che è una provocazione Ma semplicemente Una sua usanza Un suo costume In tutti i sensi Scuola, imprese e occupazione C'è un tesoretto Da 21 milioni di euro Sei bandi per i giovani Over 30 e 50 Con risorse statali Regionali e comunitari Questa è l'altra pagina Delle Marche In primo piano Andiamo direttamente Alla pagina di Fano Del Corriere Adriatico Si parla di taglia al sociale Settembre di fuoco Meno fondi Dalla regione E domande Le domande di aiuto Che aumentano Il comune di Fano Presenta oggi Il piano antipovertà Banco di prova Dopo le ferie Il progetto includerà Anche l'ambito sociale Si aspettano Risposte Dalla Carifano Mentre sul nuovo asfalto Vecchia segnaletica Per i ciclisti Nel mirino Di uno dei segnalatori Di un lettore Ci sono le indicazioni Orizzontali Anche i pedoni Sono penalizzati Ma abbiamo già detto Lo hanno già ricordato Più volte Nel telegiornale Anche di Faro TV Che le strisce Bisogna aspettare Un po' di tempo C'è un lasso di tempo Da attendere Quello è Poi chiaramente Non è che uno si dimentica Delle strisce Che prima bisogna fare l'asfalto Poi aspettare Si deve assestare Poi si possono fare le strisce Don Ciotti Nel paese dei Balocchi E la terra dei fuochi Lo chiama Tutela della salute La lettera Fiamme alla Profinglass Ci aiuti A fare chiarezza Questo è l'invito Dei residenti di Bellocchi Che chiedono aiuto Dunque a un Big della località Della legalità Scusate Fontanelle senza acqua Invece Un'occasione persa All'asciutto Anche quella Della stazione dei treni Il progetto È stato Dimenticato Grandi firme Sulla scacchiera È qui la capitale La capitale di Torri E Cavalli Siamo sempre a Fano Trionfa il maestro Brasiliano Fier Ma vince la città Con 3.000 presenze 3.000 presenze Per questo torneo di scacchi Che ha ottenuto Un grande successo Dunque di pubblico Dalla pagina Della Valle del Cesano Il parcheggio Questo sconosciuto Fate qualcosa Per il lungomare Stiamo a Marotta Appello degli operatori economici Senza interventi Non ci riprenderemo Adesso La pagina di Senigallia Per chiudere la rassegna stampa Travolto da un'auto Davanti agli amici Muore in bicicletta Un dirigente di basket Fulvio Ciarloni Pedalava con il gruppetto Di appassionati Il recovery in ospedale È stato inutile Purtroppo Ciarloni È morto Stava procedendo In Via Galilei L'impatto con la Panda È stato molto violento Vedete qui la fotografia Drammatica Con la bicicletta Sotto l'auto Che lo ha investito Chiudiamo con la pagina Di Pesaro Dove Anzi ce ne abbiamo due Ve le faccio vedere tutte e due Pesaro e Provincia Guardate che bella Questa fotografia La splendida spiaggia Di Fiorenzuola Di Focara Dall'alto Una spiaggia Che stando a quello Che ha appena dichiarato Il sindaco Ricci Il sindaco di Pesaro Avrà alcune novità È uno splendido Ritolare Sotto la Falesia Fiorenzuola di Focara Resterà una spiaggia libera Però avrà un bar E alcuni servizi E il gestore Lo terrà La terra pulita È un luogo fantastico Non può continuare Ad essere ricordato Dice Ricci Per l'immondizia Ma davvero Guardate che spettacolo Sotto Ancora furti Furto al Salone di Bellezza Del Centro Mimosa Convalidato l'arresto Invece Dei tre ladri Alla Nova Cart Saranno Espulsi L'ultima pagina Invece Guardate queste meduse Ieri ce ne erano Tantissime Eccole qua Un'invasione di meduse Sulle spiagge pesaresi Molto grandi Teoricamente Non dovrebbero essere Pericolose Però insomma Fanno un certo che Migliaia di meduse Sediano la costa Gli ambientalisti Dicono Ma i ripascimenti Mettono a rischio Pesci e vongole Con le meduse Chiudiamo qui La rassegna stampa Grazie per averci seguito Occhio e giornali Torna domani mattina Alle 7.30 In diretta Salutiamo anche tutti quelli Che ci seguono in replica Oppure un demanda Sul sito internet Occhio e notizia Punto it Stasera invece Alle 20.30 C'è il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti